Sono Livio Fadanelli, ricercatore presso il centro di ricerca di San Michele all'Adige in provincia di Trento. Mi sono sempre occupato di post raccolta che oggi vado in qualche modo a divulgare nella veste di consulente. 40 e più anni di attività, la mia, che mi hanno consentito di coniugare il mondo della ricerca e i risultati della ricerca con quegli applicativi poi attraverso i sistemi di conservazione, chi si occupa di queste tecnologie, la parte progettuale e chi li utilizza nel vero senso della parola. Ricerca dunque è mondo applicativo, un binomio indispensabile secondo me per poter entrambi trarre i maggiori profitti da quello che si fa. Il mondo della ricerca risulta dunque essere indispensabile ancora una volta, ancorché se il settore fosse poco conosciuto, poco approfondito anche a livello di ricerca vera e propria. Siamo veramente in pochi a livello nazionale a occuparci di questi aspetti. Speriamo di essere molti di più in futuro perché i temi innovativi non mancano, da quello dell'ambiente al green, alla salvaguardia della salute, al miglioramento della conservabilità e della shelf life dei prodotti che andiamo a consumare ogni giorno. Buongiorno, sono Medeo Palma dell'Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale di Cerche dell'Unità Operativa di Sassari. Il nostro istituto si occupa prevalentemente sugli studi della gestione post raccolta dei prodotti ortofrutticoli, quali conservazione, packaging. In particolare per la conservazione ci avvaliamo di una batteria di celle frigorifere della Fruit Control con la quale abbiamo degli stretti rapporti di collaborazione. I frutti che noi studiamo sono frutti prevalentemente provenienti dal bacino del Mediterraneo, quali fico d'India, melograno, agrumi e comunque specie di interesse nazionale ed internazionale. Oltre a valutare la conservabilità e la gestione di questi frutti post raccolta, studiamo anche gli aspetti nutrizionali e nutraceutici e la loro evoluzione durante il post raccolta. Sono Pierluisi Matteo, presidente della Fruit Control Equipment, un'azienda storica che nasce con l'ingegnere Felice Bonomi e è stato un padre storico dell'atmosfera controllata in Italia e all'estero fin dagli anni 50. La nostra azienda perpetua da sempre un lavoro insieme ai ricercatori, lavorando in tutto il mondo con l'applicazione di nuove tecnologie che nascono proprio lavorando insieme al mondo della ricerca. Siamo onorati di essere presenti in questo momento a un simposio qui a Milano nel 25esimo dell'associazione SOI, che ricorda un po' tutto il gruppo di lavoro del post raccolta, del quale anche io faccio parte. Devo dire oltretutto che a me fa molto piacere anche ricordare che qui nell'aula a fianco mi sono laureato anch'io con l'anno accademico 71-72 proprio con una tesi di conservazione in atmosfera controllata delle mele. Direi che la nostra attività oggi persegue lo scopo di ricerca applicata di tecnologie affinché il consumatore sia soddisfatto del prodotto che sta mangiando e quindi la soddisfazione del consumatore per noi è una delle prime cose che devono essere messe in campo nell'applicazione delle tecnologie.